Ciao amici, per la giornata mondiale dell'orgasmo parleremo di sesso tra genitori. Ma lì, io non ce la faccio. Perché? Perché Tomane continua a guardarmi. Tanto per quello che c'è da vedere. Ma no, scusate un attimo, io intendevo sesso tra genitori, non intendevo in mezzo ai genitori. Vediamo i 5 metodi più utilizzati. Allora, registriamo? Se siete genitori che lavorano entrambi, vi conviene consumare durante l'ora di pausa in ufficio. Magari con qualche sotterfugio. Metodo 1 Mi ha ordinato il pranzo? Io! Ha ordinato lei la pizza? Sì. Ma io mi ricordavo che voi di Oster le facevate rondelle. Ora le consegniamo interi. Eccoci a casa. Bambini, ascolta, cosa ne dite se facciamo una gara? Noi andate su per le scale con la tarda e io e papà in ascensione vediamo chi arriva prima? Dai, forza. Andate su. Corri però. Metodo 2 Cari genitori, se pensate che il vostro problema sia la mancanza di tempo, createlo. Ah, schiena! Ah, signora! E questa è una tecnica svedese? Funziona! La provi? La schiena! Metodo 3 Aspettare la nana dei bimbi può essere strategicamente catastrofico. Volete vedere la nostra soluzione? Bambini, forza che è tardi! Dai, che dobbiamo andare a letto! Eh sì, 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 guardate! Eeeh, quasi mezzanotte! Gioppi, quasi mezzanotte, ma non avete sonno? È la notte! E adesso, amori? Avete sonno? Eh? Ciuciò! Secondo le statistiche, il 47% dei genitori ammette di aver fatto sesso in posti non consueti, approfittando magari di una momentanea ristrazione dei bambini. Volete che giochiamo qui insieme o preferite andare a fare 5.000 giri sulle giostre? Metodo 4 Giostra, giostra! Dai, vai! Ok, quanti soldi gli hai dato? In banco, ma... Dai! Ragazzi, siamo nel terzo millennio, come in ogni altra situazione, anche nel sesso. Può venirci in aiuto la tecnologia? Metodo 5 Amore? Sei il tuo maialino che ti sta parlando? Che profumo che hai! Tirei con la schiena dal collo, ti sto squalciando, porcellina, non ti piace! Ti spingo contro la parete, te la baste non durante il testo! Ancora più forte, sì... Sì! Andiamo avanti? No, no, no...